E' stato il grande colpo estivo della Fiorentina, il giocatore simbolo del nuovo corso firmato Rocco Commisso, parliamo di Frank Liberi, un avvio di stagione esaltante per il campione transalpino, sette presenze, due golle, un assist, ma soprattutto tante standing ovation da parte dei tifosi ospiti, è successo a Brescia, viene sera a Brescia, è successo anche nella scala del calcio ovvero a San Siro contro il Milan, proprio quel club che poteva acquisire nelle prestazioni la scorsa estate perché vi dobbiamo raccontare un'interessante retroscena, Rino Gattuso nella riunione con Elliot dello scorso mese di maggio, nel quale si cercava di programmare la futura stagione, aveva fatto una richiesta precisa tra i giocatori di esperienza in questa shortlist c'era Frank Liberi, Elliot però non ha dato l'ok a questo tipo di progetto ritene Frank Liberi un giocatore troppo in là con l'età, classe 83 e quindi poi Gattuso ha maturato l'idea di lasciare il Milan e in questo momento forse il club rosso-nero rimpiange un elemento come Frank Liberi che poteva essere molto utile sia in campo ma anche per quanto riguarda la leadership e la personalità nei confronti di un gruppo che si sta dimostrando molto molto fragile